Buongiorno amici di Kikiriki Amici altamurani, se io faccio un esempio cretino, qui mi trovo in via Treviso, se io dovessi fare a primo acchitto senza conoscere per quale motivo questa struttura che sta inquadrando adesso il buon Nunzio, se dovessi vedere questa struttura e non sapere niente, cioè se devo dare una notizia così a cavolo di cane, cosa posso dire? Posso iniziare la puntata così. Amici di Altamura, in seguito a una scossa di terremoto di qualche anno fa, questa palazzina è crollata, è caduta. Fortunatamente, per non farla proprio cadere a terra, dei bravi muratori, dei bravi ingegneri hanno messo questi pali, queste colonne color rosa e così per far reggere questo palazzo che è crollato. Cioè apparentemente a primo acchitto, se uno non conosce la storia di questo immobile, la prima cosa che ti viene in mente guardando questa struttura è quella che ho detto io. Cioè che la palazzina stava da sì, tipo un po' meglio della torre di Pisa, a un certo punto sta per crollare e al po' hanno messo i pali. Allora, così a prima che, però se noi poi andiamo ad analizzare, abbiamo qualche cognizione di architettura, di urbanistica, di ingegneria, di alta macelleria, di qualsiasi, di pasticceria pure, ci rendiamo conto che questa è una bellissima opera architettonica. Non sto scherzando, non voglio scherzare, è veramente, cioè quell'architetto, quell'equip di ingegneri che hanno progettato e, come dire, calcolato, fatto i calcoli statici e dinamici di questa struttura, veramente complimenti, perché può sembrare una struttura in bilico, però come potete vedere dalle immagini di repertorio, del buon Nunzio che le è andate a trovare, dentro è perfettamente a livello, cioè è proprio un, come dire, un vano, un locale, uno studio, un salone perfettamente a livello, anche se esternamente, come potete vedere dalle immagini, sembra veramente che sia basculante e quindi queste colonne color rosa salmone che stanno lì per sostenere. Allora, perché ho fatto questa puntata e ho fatto questa prefazione? Perché voi sapete che noi, grazie anche alla mia mail che sta andando adesso in sovrimpressione, diciamo, all'alto del vostro teleschermo, Emanuele.giordano, qua, chiocciolatiscali.it, quindi un cittadino di Altamura è stato così gentile che ringrazio di mandarmi questa mail, qualche giorno fa, che io ve la leggo velocemente, nel frattempo possono scorrere le immagini. Gentilissimo signor Emanuele, sono un cittadino altamurale, innanzitutto complimenti per la trasmissione che conduce. Va bene, devo segnalare un disagio che vivo ogni volta che penso a quanti soldi si spendono senza nessuno scopo educativo e logico. Altamura è una città fondata sulla magna Grecia, come del resto un po' tutta l'Italia. Il problema principale è che chi sbaglia non paga, e vabbè, quando si spendono soldi pubblici è normale, non si trova mai un responsabile. Adesso basta con le promesse e passo all'aggetto in questione. Sto parlando dell'infopoint di Altamura in via Treviso, qui in effetti abbiamo svelato l'arcano, questa struttura in bilico non è altro che un modernissimo infopoint di via Treviso, che dovrebbe accogliere e indirizzare i turisti in visita ad Altamura. E' una cosa veramente interessante, perché un infopoint di una certa bellezza è raro trovarlo in altri posti. Allora, credo che il progetto doveva essere pronto nel lontano 26 febbraio 2000, addirittura sono passati 18 anni, 12 anni, 13 anni, non so, quando sono passati? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18 anni. Vabbè, la matematica è un'opinione. Ad oggi l'infopoint in via Treviso è ancora chiuso, la struttura sorge su un'area comunale di 2.700 metri quadri. Il progetto è di circa un milione di euro finanziato con i fondi POR, Peace Habitat Rupestre e fondi comunali. E' stato aperto per ospitare alcune attività, infatti quelle immagini di repertorio che ha mandato il buon annunzio sono state fatte proprio in questa attività che è stata fatta, per lavori svolti e poi dopo un po' non ci va più un cane. Nel senso che la struttura, pur essendo nuova, è già assoggettata al lavoro di manutenzione, cioè praticamente hanno speso un milione di euro e più, praticamente non ci va nessuno e già abbiamo speso dei soldi, mi dice questo, per lavori di manutenzione straordinari perché ci piove dentro. Però diciamo che tutto sommato è buono che piovere, perché essendo la pendenza l'acqua non ristagna e se ne scende, quindi diciamo che è comoda questa cosa. Sono qui, ecco qui cosa resta di questo mostro dell'architettura contemporanea e altamurana. A me sembra un container obliquo, ma in effetti sì, in effetti un container. Ah vedi, i container che stanno al porto di Salerno, al porto di Baccio, un container obliquo. La recente amministrazione sta prendendo provvedimenti, allora io mi chiedo, questi provvedimenti saranno ancora una volta a nostre spese, sono consapevole che questa mail non risolverò la questione, l'info point, ma la tua trasmissione che è molto seguita serve soprattutto per svegliare le coscienze della popolazione. Beh in effetti ringrazio l'amico Michele, senza dire il cognome, l'amico Michele per questa graditissima mail ci ha messo, come dire, anche lui la faccia, si è esposto e in effetti il suo racconto è stato, diciamo, preciso e puntuale, cioè ha detto la verità, in effetti le cose come stanno, cioè che è stato speso oltre un milione di euro, è dal 2009, doveva essere inaugurato, è tutto apposto, la struttura è stata collaudata, però hanno fatto soltanto un paio di cose, una cosa turistica, troppo di frecature e poi è chiusa e voi sapete che quando le strutture sono chiuse aumenta il degrado, mi meraviglio che non è stata ancora vandalizzata, però poco ci vuole che non può la vandalizzare di nuovo e quindi poi che cosa succede? Per riattarla, per mettere questa cusquana che ha scambio che mi ha dato fastidio, cane, zitti per piacere, chiaramente poi per riattare, per ristrutturare nuovamente una struttura che non è mai stata attiva, ci vorranno altri soldi pubblici nostri e le cose così non vanno bene. Però voglio ricordare al mio amico Michele che ha mandato questa mail che pare, dico pare, col beneficio del dubbio, che intorno al mese di marzo questa struttura dovrebbe riaprire, e quindi dovrebbe essere ricollaudata nuovamente e non dovrebbe essere, diciamo, più fungere da Infopoint, ma dovrebbe essere un polo museo, come hai detto? Ah, dovrebbe rientrare, mi dice Nunzio, in un progetto di rete museale, quindi organizzazione di eventi, diciamo, a livello... Comunque ci sarà un discorso anche turistico, un discorso culturale e mi auguro che dopo questa puntata, ulteriore magari spinta che noi diamo ai nostri amministratori di Altamura, possa servire ad accelerare questi tempi di apertura, ahimè, di questo container obliquo che è costato alla cittadinanza, è costato, diciamo, ai cittadini oltre un milione di euro. E nei milioni di euro, scusate se sono pochi, sono soldi. Cioè, se i cittadini pagano le tasse, in cambio, devono avere dei servizi, cioè non è che hanno sta picchiappo fresca, magari paghiamo le tasse e in cambio abbiamo... Ma no, ti immagini? Oh, questo viene avvenuto. Se immagini, è proprio così, tu quando vai così, devi andare così, lo so, ma tu ti mangi... Cioè, ecco, allora, vogliamo immaginare com'è l'Infopoint? E' così. Questo è l'Infopoint. Però fai presto che mi facciamo la spada, non si che io c'ho l'artrosi. No, che pieghi, non arrivo più. Vabbè, è d'Altamura. E' tutto. Amici, clicchi, io vado a fare un giro all'Infopoint. Stare per bu. Ma vanno però com'è, eh? Ahahaaaaa! Ahahaaaa!